Abolire i parcheggi a pagamento su Via Roma e Via Cuomo, questa la richiesta del gruppo di opposizione insieme per la Bellizzi che vogliamo, guidato dall'ex sindaco Pino Salvioli. Secondo la minoranza, la decisione di istituire il parcheggio a pagamento creerà solo danni a cittadini e commercianti e non porterà alcun guadagno all'ente, visto che il servizio è gestito dalla società a capitale pubblico cooperazione e rinascita che riconosce al comune un ristoro pari al 2% sui primi 50.000 euro. Nelle casse comunali e il commento dell'ex sindaco Pino Salvioli entreranno appena 265 euro. Le perdite che si determineranno saranno invece colmate dai contribuenti, essendo la società cooperazione e rinascita con capitale al 100% del comune. Il parcheggio a pagamento è partito lunedì 9 luglio su Via Roma e Via Cuomo e prevede il pagamento per una cifra di 50 centesimi all'ora pagabili attraverso l'acquisto dei ticket gratta e sosta o presso i parcometri.